allora sto registrando ragazzi allora abbiamo due grandi atleti allora abbiamo la premiazione due grandissimi atleti anche quest'anno sono arrivati in una finale mozzafiato poteva ancora andare meglio bravissimi fino a mezzanotte poteva andare meglio perché in effetti noi siamo aperti fino a mezzanotte potevano durare di più premiamo come secondo classificato come è finita la partita una grandissima partita che prende anche quest'anno il secondo posto merita il suo il suo livello di qualità e poi ovviamente come prima anche quest'anno sta facendo una collezione almeno di master ancora il torneo di fine di fine estate non l'ha vinto ogni volta comunque eccolo qua il nostro numero uno due parole ringrazio il circolo tutti voi soci a meglio tutti maestro ventino soprattutto l'abbate che contro lui lo prendo per finimento fisico alla mia solaria bravi 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 abbiamo dato un'occhiata una stretta di mano qualcuno che fa le foto le taglio le taglio le taglio le faccio foto ok allora se aspettate io cambio le taglio 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 le tag